Falso medico al pronto soccorso, bocche cuscite davanti al giudice, tifosi con mazze e coltelli. Bentrovati al TG, blitz dei carabinieri del NAS che denunciano un cinquantenne della provincia di Roma, il quale da alcune settimane lavorava a tempo determinato come medico al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino con un contratto di 36 ore settimanali ed è accusato di esercizio abusivo della professione medica e di falso. Il titolo di laurea in suo possesso conseguito all'estero non sarebbe riconosciuto in Italia. I primi interrogatori dopo l'arresto dell'ex primo cittadino di Ceccano Roberto Caligiore e di altre nove persone tra imprenditori, funzionari e dipendenti comunali accusati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione nei pubblici appalti. Caligiore si è avvalso della facoltà di non rispondere al giudice, riservandosi di farlo in una fase successiva dopo aver letto gli atti del procedimento. Stessa scelta per Stefano Anniballi, 66 anni di Frosinone, Stefano Polsinelli, 47 anni di Sora, Elena Papetti, 40 anni di Frosinone, quest'ultima ha consegnato una memoria difensiva. Tutti negano le accuse al pari di Danilo Rinaldi, 43 anni, che però ha risposto alle domande del magistrato. In tutto sarebbero indagate 34 persone con 13 misure cautelari, fra le quali i 10 provvedimenti degli arresti domiciliari. 30 tifosi del Napoli in viaggio alla volta di Milano per assistere alla partita di calcio Napoli-Milan sono finiti alla caserma dei Carabinieri di Frosinone anziché allo stadio Meazza, dopo il ritrovamento nel tratto sciociaro dell'autostrada di mazze e coltelli nascosti nei veicoli sui quali viaggiavano. Rischiano il DASP di non entrare più negli impianti sportivi. Un 23enne di Ceprano rinviato a giudizio per stalking ai danni dell'ex compagna di 26 anni. Secondo le accuse, Pedinava inseguiva costantemente la donna dopo la fine della loro relazione sentimentale, subissandola di insulti e minacce, sino ad arrivare a malmenarla all'interno di una discoteca. Stagione scistica, rischio a campo staffi, è andato deserto il bando del comune di Filettino per la gestione degli impianti di risalita. I Carabinieri arrestano un 27enne di Piemonte San Germano incensurato, il quale teneva in casa 300 grammi tra ascisce e mariviana, con materiale per la coltivazione e il confezionamento delle sostanze stupefacenti. operazione antidroga, interforze, polizia, carabinieri e guardia di finanza SORA, 165 persone controllate, rinvenute e sequestrate 29 dosi di eroina pronte allo spaccio, un estracomunitario agli arresti domiciliari. A risentirci alla prossima edizione. Grazie. Grazie.